La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo conoscitivo, quindi senza indagati né ipotesi di reato, a seguito della presentazione da parte del Movimento 5 Stelle di un esposto riguardante l'alluvione del Reno. A presentare l'esposto sul cedimento dell'Argine nella zona di Castel Maggiore era stata, come ricorderete, lunedì mattina la capogruppo pentastellata in regione Emilia-Romagna, Silvia Piccinini, che aveva auspicato che la magistratura non si voltasse dall'altra parte. Nel documento aveva spiegato che Piccinini non si formulano vere e proprie ipotesi di reato, ma si mettono insieme alcuni fatti avvenuti nei primi giorni di febbraio, quando il Reno è, come ricorderete, esondato nella pianura bolognese, provocando numerosi danni.